San Giacomo è uno dei rioni storici di Trieste, confinante con i rioni di San Vito e Città Vecchia. Agli inizi del Settecento, con l'istituzione del Porto Franco, molte persone provenienti dai territori dell'impero e dal bacino orientale del Mediterraneo si trasferirono a Trieste e la città cominciò ad espandersi. Le prime case d'affitto di tipo semirurale si raccoglievano nel quadrilatero circoscritto dalle vie del Molina Vento, San Giacomo i Monte e via del Pozzo. Nel 1849, nella piazza nominata Campo San Giacomo, venne costruita la chiesa parocchiale, che doveva dare l'attuale nome al rione. Con la crescita economica di Trieste, diversi stabilimenti industriali si insediarono nelle vicinanze della zona, soprattutto a partire dalla metà dell'Ottocento. Ancora nel 1875 il distretto aveva un aspetto semirurale, anche se la popolazione era già caratterizzata da una prima presenza operaia, con fabbri, ferrai, calderai, carpettieri e fonditori. Il quartiere, ancora oggi, è densamente popolato ed è fornito di ogni servizio. San Giacomo, essenza della Trieste che dà sempre un mix di culture, di religioni e di lingue, un autentico centro al di fuori del centro. Grazie a tutti.